Più cazzo! Io vado a mettere questo! No regà, ho fatto per gli altri, ma no! Allora qualche giorno fa Guilhermo mi ha detto, Gabriele se hai qualche bella idea per un bel video, puoi sempre farla sul mio canale Quel giorno è arrivato, Will Wush ha mangiato la foglia, ha boccato all'amo e adesso attraverso la giusta esposizione mediatica Su un canale da un milione di iscritti, faremo capitolare Guilhermo Grazie per esserti fidato di noi Oh Gabriele, grazie a te per girare il video No Guilhermo, dai sei troppo buono No dico sul serio Gabriele, su una scala da 1 a 10 ti meriti 11 Avrò bisogno d'aiuto Svegliati bambino mio, abbiamo una missione da compiere Allora che cosa stiamo facendo? Qualche giorno fa ho fatto ordinare 300 arrosticini a Gianluigi E adesso stiamo andando a casa di Guilhermo per il compleanno di Enrichino Stiamo andando a prendere Gianluigi Lo stiamo andando a prendere soltanto perché c'ha la ciccia Andiamoci chiaro perché... Ti mangeremo nel terrazzino di Guilhermo, a sua insaputa Sai che panico gli facciamo? Erle, tanti auguri Perché il nostro piano funzioni e abbiamo bisogno dello strumento madre Questa bellezza è la nostra macchina Non so se vi ricordate ma in quarantena ci hanno rotto il vetro per rubare E che cosa hanno rubato? Chi possono rubare? Guarda la macchina Non hanno rubato questi ladri di cattivo gusto La cosa più importante Il diamante allo stato grezzo Che abbiamo sempre tenuto dentro questa macchina No, 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 non andate via Non vi fate ingannare dall'aspetto comune Non è quello che si vede Ma quello che ci cucini sopra Non è una comune fornacella E voglio dargli la giusta Esposizione Mediatica Portaci la rosticini Arriva, arriva Bulldog, ho deciso di esporti mediaticamente 3 piotte da rosticini 5k di carbonella E poi questa è una fornacella in più Ah, di supporto Una fornacella di supporto Ma ragazzi, questa macchina è una merda Ma come la ospitate la gente qui? Ma che è un cerchione quello? Non ci stanno, vedi? Ma tu mi dico quel coso È più comodo, eh? Sembra una macchina rubata, ragazzi Io ho paura Guldo Gli arrosticini Gli arrosticinacci Gli arrosticinacci Esposizione mediatica a te Lui non lo sa ma C'ha la maglietta blu E sposta mediatricamente Ehi, ragazzi Ragazzi, non si apre Ma questo non ci crede Ho capito, ma guarda come cazzo Questo Vabbè No, ragazzi, che sta facendo io? Sshh Oh, qui, guarda Lì, guarda lì Esposizione mediatica Guarda che meraviglia Vuoi schiaffeggiare? No Devi farlo, il rituale Se non si schiaffeggia non si mangia Ho 300 arrosticini di pecora Contro di noi Contro tutti noi Quindi ti ho 100 a pacco Mamma mia, senti che odore Io non ho capito, questo qui è il pranzo di noi quattro Avevamo fame Ovviamente vince chi ne mangia di più Ah, certo Quindi tenetevi gli stecchini Esposizione mediatica Ma vuol dire esposizione mediatica? Questi vini di Guglielmo sono vini del cavolo Sono vini da pochi euro Non è vero E il mio è il vino da... Ma se è un ticchio Ma che desoglio E' il mio compleanno e ci offri il vino... Auguri, ma io non lo so, non sapevo Non avevo idea che stesse... Mamma mia, che... 300 arrosticini Esposizione mediatica Oh Esposizione mediatica Esposizione mediatica Adesso vi insegnerò ad accendere il fuoco nella maniera migliore Innanzitutto mi serve nello scottex Non c'ho scottex Non c'ho scottex, ho dei bicchieri però per il vino Prendi la cartigienica No, la cartigienica mi serve... Il cesto dove cacano Mamma, ho fatto! Vai Guido, il lodo Poi serve dell'olio Olio Dov'è? Dov'è le tieni? Le risposte vogliamo Olio di riso Guilievo, non c'è Sì, c'è Guarda che non c'è Guarda che non c'è Dai, ma guarda Guilievo, ma passate veramente un ticchio Puoi finire quell'olio? Gabriele No, Gabriele, finisci in questo Si imbeve Gabriele, staccatello di terra l'olio No, no Fidati Guarda, guarda che ho fatto No, Gabriele, io ho pulito tutta casa insieme a mamma, ti ammazzo Ti rinfilo 300 bastoccini nel culo Vediamo sta challenge 300 stuzzianti nel culo di Gabriele Tu ci servivi il ferazzino Che? Ti spieghi, dillo Oh, ci serviva uno spazio conforme alla legislazione del momento Caccia, Dino Tu hai fatto una palletta di carta e olio Questo dà una sorta di fiamma eterna Guarda che un calamano unca di olio, cioè una roba Una roba veramente Ragazzi, le vostre scarpe, via le scarpe subito No, perché ho già capito che ci sarà per terra Olio, grasso, io non voglio che mi camminate dentro casa Ma c'hai per caso altre tre paia di queste? No, siete dei selvaggi, state a pedire Che cambia? Scusa, eh, se se leviamo le scarpe Comunque sia, camminiamo scarpe Basta accendere un pezzettino di braccia, di garondimonio qua Adesso c'è solo bisogno della cosa The wine Guardate che spettacolo Mamma mia, guardate come ha preso il servitore Quanto già lo sapremo che nessuno si lascia Ognuno deve mettere gli stuzzicadenti in un punto Io nel culo di Gabriele Ho messo la bandana della sfida Ognuno deve mettere gli stuzzicadenti in un punto Io nel culo di Gabriele I miei stuzzicadenti saranno conficcati nel cactus di Cugliel Dei piatti? Sta scherzando È tanto comodo il culo di Cugliel No Gabriele, le ciabatte dentro casa Vabbè, ma questo non fuori casa Oh, mi deve essere sfuggito qualcosa Ci serve un bel brodino per preparare lo stomaco In mancanza del brodino L'alcol non ti fa percepire la sazietà L'arco Guarda che schifo per terra Guarda che schifo Carbone Il carbone Più carbone Capito? Guarda, la si fa così Mannaggia a me Domini lo sembra fatto per gli altri Ma in realtà è fatto soltanto per noi Ci sono delle piante Oh, ci sono È una giostra che fa No, non si può così Non si può così Forse è un po' troppo Insieme al primo bicchiere di video Non vi vedete Allergerisci, bello Da qui, attacchiamolo Allergerisci, bello Allergerisci, bello Da qui, attacchiamolo Sono sette chili arrotti di carne Dai 40 ai 42 arrosticini e un chilo Pronti per la cottura Vai Mamma mia Madonna Non so se hai visto che io ho preso un mucchio Ma a caso E ho perfettamente coperto tutta la fornacella Sembra un abruzzese doc C'è un motore Buonissimo Paradisiaco Ecco il sale Da qua Paradisiaca Ora ti spiego che cos'è l'esposizione mediatica Ok L'esposizione mediatica Hai un dovere Ma a sbaglio sta sbiaccicando Hai un dovere Hai un dovere Hai un dovere Sembra un codice fiscal Io non metto il sale Questo è se mettessi il sale Lo stavi buttando dal balcone No, aspetta No, aspetta No, aspetta No, aspetta Stiamo tra di noi Devo mettere il sale Metto il sale Ahahahah Ma lo butti per te No, aspetta Perché so così Perché non mi interessa Ma io sono una responsabilità Verso l'esposizione mediatica Metto il sale in esposizione mediatica Esposizione mediatica Anche col tacco E col tacco lo mette Ma che schifo ragazzi Esposizione mediatica Esposizione mediatica Sale in esposizione mediatica Ma che schifo E' unto Che schifo Volate, volate Ma li hai salati almeno E' già partita una bottiglia di vino Gabbia E' ancora bisogna mangiarlo Visibilmente più ubriaco E' già ubriaco La prima andata di arrosticini è proprio Propongo Che il primo arrosticino Sia mangiato dal festeggiatino Lo propongo anzi Sì Dai, sì Sì, sì Sì Avete preso una torta per comprare una casetta? No Per fortuna ci ho pensato io Ho preso vari candelini Gli infizziamo sull'arrosticino Gli infecchiamo Gli infecchiamo No, no, no Ma dite migliore Io potrei fare un colci al volo Ma è più valore Gli infecchiamo Spengli il candelotto Ma gli vuoi fare la torta da arrosticino? Enrico, tanti auguri Sei uno zero Chiedo scusa ragazzi Sei uno zero E tu sei il secondo zero Ma hai messo lo zero veramente? Ma l'avevi detto tu di mettere lo zero? Che è il secondo Sei l'otto dell'infinito Infinito per sempre 29 Questo è il massimo E ho rigirato al contrario per essere sei Esposizioni mediatiche Tanti auguri Ah, è ricco Bellissimo Ma avete preso un nove in realtà? Sì Questo devo trovare un posto Che io sta mangiando un botto eh? La tecnica incrociata la fate mai Mordi al centro? Bello Guarda la tecnica sempre verde C'ha la casse La casse l'idea Ma ragazzi perché il coso è il sale per terra? Ah vabbè dai Nettuno lo ha vinto No Raccoglietelo sul Vabbè comunque te sei divertito La te la quarantena ti ha fatto male Adesso dovrete tutti mangiare Un rosticino in verticale Io ci faccio Non è mai la pena che sto facendo verticale E' caduto un pezzo No che schifo Uno Non c'è il gatto Solleva uno Senta che chi ti è meno L'elmo ha perso la voglia di vivere C'è una sfida da compiere Una sfida? Che ansia Guglielmo Non c'è un pezzo di arrosticino nella gengiva Mamma mia Non hai detto C'ha la casse C'ha tasse l'idea Non mica l'hai detto Non mica era la dica C'ho fatta C'ha la casse C'ha tasse l'idea Li prendo e li mangio tutti Guardate il funo che sta arrivando vicino con l'anciù Guglielmo sta massacrando il vicino Questo è web verità Non ci nascondiamo dietro un arrosticino Stiamo spaccandoci 300 arrosticini in 4 Lì li ho contati Non è uno spezzato lì Non è che te l'avevi per due che hai spezzato Vorrei dare la giusta esposizione mediatica a questi due Che altrimenti non l'avrebbero mai avuta nella loro vita Esposizione mediatica Fammi Ho 5000 frecce al mio arco Ragazzi allora c'è un momento di stallo possiamo dire Di fatica Classico stallo alla abruzzese E ti fichi la rosticina in tasca Che schifo Mamma mia No regà Ti hai messo la rosticina in tasca Non ci credo Vabbè ma tanto non lo spreca sicuramente Quello verrà mangiato La situazione è questa Guglielmo hai superato il chilo? Non credo Gianluigi hai superato il chilo? Si Ho superato il chilo Benvenuto nel club Io sto abbondantemente sopra il chilo Soltanto che io ho utilizzato una tecnica di mangiare molto rapidamente In modo da non sentire la sazietà La classica tecnica della gamba vuota Da uno glielo diamo? Di certo non dei miei perché io Vieni discendente dei lumi Vuoi la rosticina? Fonna mia curdo Complimenti Da la casse lì te Cos'è? Cos'è questo? Cos'è? La rosticina? Quella è la scrotigia Il mio rosticino nella tasca Mamma mia che schifo Non ci credo Bravo Non ci credo Non ci credo Ho fatto un po' di scena per farli rilassare In modo da non sembrare temibile E io facendo la scena dell'ubriaco Mi faccio credere di non essere temibile In realtà ho mangiato più a rosticini di tutti Ho bisogno di sgrassare un po' L'ideale sarebbe una Coca Cola Una sgrassina per eccellenza Ecco la sgrassina La sgrassina È il momento di fare sul serio Uuuu bambinelli dei Pochina fresca eh Dammi tutti gli a rosticini che sono rimasti Dammeli tutti Campione Bisogna metterlo in altri nei forni Ragazzi vado a cuocere In cottura Perché c'è tu che ha fame Hai abbandonato per caso? Sto lì lì Dillo se non ne vuoi più Dillo in esposizione mediatica Ancora no Guarda a me se non c'è fosse l'esposizione mediatica Gassi tazio Dimmelo in esposizione mediatica Gassi tazio Ho appena incominciato A livello di stomaco io ancora E che non lo sapevo Lo vediamo da qua Mo' io dirò sto coso se buca Mie Io sono scommolto Io vado a mettere questi sulla braccia Pronti Guarda Giuliano ha mollato proprio Io c'ho ancora una rossicina qua E l'altro ce l'ho qua Vedi? Nella rossicinatura del pantombo Sì sì vedo 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 Ma non ci credo che è schifo rega Io a livello di stomaco ne posso mani altri A livello di salivazione sento che la bocca non segue il mio stomaco E ancora Braa In esposizione mediatica Non ce la faccio su Stasmo la cazzata La prego professore Un altro solo Uccidimi Uccidimi Qual è la bella roba Te ne due li metto Mi ripongo qui Fammi vedere Voglio dare un'occhiata Questi sono i tuoi? Ormai stiamo parlando di chili Quanti chili stai? Io non sono sazio Ne metto altri sul fuoco Allora forse non hai capito È il tuo piano Non è che ti volevo portare Orgimiteo Io personalmente ho superato il chilo abbondantemente Ma voi ne maniate altri? Se tu li metti Ci costringe a mangiarmi Aie Guarda guarda come si monta i suoi sticchi Non posso perderla questa challenge Io mi sto vergognando Io secondo me sto sotto i bastoncini di Gabriele Perché lui è andato veloce Lo conosco È uno che sullo scatto Pericolosità Pericolosità Grazie No ma la cosa scioccante è quella Lì ci stanno ancora i rosticini in cottura Intimoriti Cioè ogni rosticino è un macigno Lo sono Io me ne vado Ti arrendo Enrico continua a salare i rosticini Sei l'orgoglio dell'Abruzzo Tu devi dire Sono sazio Non sono sazio La questione di salivazione Ma voi stai continuando a mangiare Tu ti devi spogliare Perché sei scappato Il mio problema adesso è la salivazione Non è una questione di stomaco È più difficile se non si ha saliva digerire un pasto Ma vuoi che te li mastichi io? No Non ci alzio più Non ci alzio Guglielmo molla Io ho mollato Con una salsa andrebbero giù molto meglio perché Cambio il sapore e la salivazione aumenta Quindi vuoi una salsa, barbecue Guglielmo dove sono le salse? Ma non esiste che gli do la barbecue Guglielmo Go! Che cos'è? Torta alla Nutella Stavo pensando Pensai che bello tipo usci con una per la prima volta E fare una cosa che te la bruci per sempre Che bello Lei ti parla no? A un certo punto si gira verso di te E tu stai così No 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 Fai la parte di quella È la prima volta che usciamo Io non penserei di dover chiedere scusa Mi sto guardando questo contenuto Basta Questo è l'ultimo Sei sazio Io ne mangerei altri Se ci fosse una salsetta per accompagnare Bene a questo punto dopo esservi appropriato indebitamente del canale conteggeremo finalmente chi ha vinto la challenge degli arrosticini, partendo dal più scarso. Guglielmo! Prendi i tuoi arrosticini, ognuno prende i suoi. Guglielmo, quanti arrosticini hai mangiato? 27. Un poco più di mezzo chilo di carne. Sì, mi sento pieno. Gianluigi! Mi sono superato. Il numero di queste bacchette ammonta a 70. Cazzo! 70. Quasi 2 kg. 1,7 kg di pecora. Io ho mangiato la bellezza di 61 arrosticini. Non mi posso lamentare. Basta, ottimo. Anzi, 62. Mamma mia. Non voglio riparmi dietro. Infine, per Rigo il diesel del gruppo, quello che ha mangiato più lentamente ma per più tempo. Io ne ho mangiati 66. Quindi il vincitore è il pecorone d'oro. Ma... A Gianluigi! Però un attimo, voglio ricontarle a questo punto, magari mi sono sbagliato. La giuria si accerta. Ecco, questo mi fa capire che sto cominciando a far giro. Ragazzi, il conteggio era sbagliato. Gianluigi ne ha mangiati 60... Tu ti hai mangiato? 66. 67. E per uno vince. Ma non ho mangiato 70. Ma non ho faiato. Anzi, sono sbagliato. E Gianluigi ne ha mangiato uno pensando di dover arrivare a 70, quindi era in un pareggio con Enrico, se non ne avessi mangiato l'ultimo. Quindi a lei è rimasto questo, andiamo in pareggio. Ma c'è la cartigerica per terra. No, non è cartigerica. Io non mi sopporto più, ora ve ne andate. Ah mamma mia. Avete fatto il vostro show. Tanti auguri a Enrico. Potrei benissimo mangiare quella rosticina e andare in pareggio. Ma è giusto che ci sia un vincitore in questa challenge. Che cazzo. Bene, per chiudere, prima del dolce, che c'è sempre spazio per il dolce. Non mi sento chiudere del dolce perché l'ho sorpresa Enrico. Se questo video vi è piaciuto e volete un'altra puntata di approvazione in debita del canale di Wewash, commentate tutti con esposizione mediatica perché tutti ci meritiamo un po' di esposizione mediatica. Alla prossima. Cazzo domani. Devo allenarmi. Almeno tre ore. Almeno tre ore. Mamma mia che depressione. Che depressione che ho. Ma c'è pure il dolce. Tanti auguri a Tecone. Ciao.